Torre dei Frati è una magnifica dimora del Seicento, immersa nella verde campagna di Fossano. I suoi spazi di grande fascino e i servizi esclusivi dedicati ai ricevimenti nuziali vi garantiscono un evento indimenticabile e creato su misura secondo i vostri gusti e le vostre aspettative. Le sue sale sono ambienti suggestivi dove organizzare il vostro ricevimento, spazi che offrono un perfetto connubio tra le affascinanti atmosfere dell'antica struttura e il comfort dei servizi più moderni. Esternamente verranno allestiti per voi incantevoli spazi come il porticato, l'ampio giardino che circonda la piscina e la veranda, per romantici banchetti o cerimonie nuziali all'aperto. Lo staff di Torre dei Frati vi aiuterà ad organizzare il perfetto ricevimento di nozze, studiando ogni dettaglio in base alle vostre preferenze e personalizzando ogni servizio a seconda delle necessità. La proposta culinaria di Torre dei Frati vi assicura un banchetto variegato e personalizzabile, portando a tavola il meglio della tradizione gastronomica locale e nazionale. Torre dei Frati è la scelta ideale per chi sogna un matrimonio all'insegna della raffinatezza, del fascino e dell'esclusività.